Buongiorno a tutti, da parte dell'amministrazione provinciale di Salerno, voglio portare innanzitutto i saluti del Presidente e di tutta l'amministrazione mia personale. Per la prima volta sostituisco con grande piacere e simpatia l'assessore Bottone in una presentazione di una manifestazione come quella di questa mattina. Quello che voglio dire, manca soltanto un elemento importante trattandosi di pupi, pupazzi e marionette, mancano i bambini. Avrei voluto fortemente la presenza dei bambini perché è esattamente ciò che ognuno di noi vorrebbe sempre essere e restare, eterni bambini. E grazie a queste associazioni che ci offrono l'opportunità di rivivere per questi due mesi questa bella esperienza dei pupi e delle marionette e quindi non faccio altro che invitare tutti voi a ritornare bambini. Sentiamo quel festival accosta da Maffi Puppet che parte domani a Ravello con uno spettacolo bellissimo della compagnia che viene da Iesi. E poi di conseguenza praticamente 20 anni spettacoli in tutta la costa da Maffi, spettacoli e laboratori dedicati per i bambini da compagnie professioniste. Per la prima volta nella costa da Maffi si uniscono in rete tutti i comuni per fare un unico festival che inizia domani per concludersi poi a settembre. Dei comuni praticamente che fanno parte del progetto, ne parla Aldo De Martino che è anche presidente dell'Unima Italia che è l'associazione nazionale dei marionettisti e burattinai di tutta Italia. Allora sì, portiamo a battesimo questa prima edizione, però in realtà viene da lontano perché la programmazione di spettacolo di figure in costa da Maffi ha veramente un'esperienza ormai decennale. E questa prima edizione del festival goda del patrocinio della provincia di Salerno, l'assessorato alla cultura ma anche della camera di commercio, dell'ente provinciale del turismo e si fa grazie anche al contributo finanziario dei dieci comuni aderenti al progetti. Non solo spettacoli, anche laboratori, anche mostre, quindi insomma una bella situazione per passare qualche giornata in costa da Maffi.